La redazione di Radio FM1, cronache fermane, cronache piccene, presenta Zoom. Politica, cronache d'attualità, confronti ed approfondimenti dalle marche. Grazie a te Alessandro, grazie. Grazie a te Alessandro Luzzi, a Simone Corazza che rendete questo possibile dalla regia. Ringrazio ovviamente i nostri ascoltatori e soprattutto l'ospite di questa sera, il Presidente del Consiglio Comunale di Fermo, Francesco Tarsatti. Grazie e benvenuto. Ciao Giorgio. Presidente. Senti, oggi è una giornata, diciamo così, importante per te, perché è la giornata in cui hai deciso di tirare un po' le somme dell'attività consigliare del 2022. Che 2022 è stato per il Consiglio Comunale di Fermo? Ma guarda, in realtà è un bilancio che noi tracciamo di fatto ogni inizio anno. Anche l'anno scorso avevo fatto un po' un resume di quello che è stata l'attività consigliare, ma perché penso che sia importante che anche i cittadini si rendano conto del lavoro di un organo che tante volte rispetto alla capacità della Giunta di essere sul pezzo operativa per i bisogni dei cittadini, uno dice sì, ma il Consiglio cosa fa? In realtà passa il bilancio, cioè l'esecutività della Giunta è garantita. Poi sappiamo noi che stiamo più dentro dal Consiglio Comunale, dall'approvazione dei bilanci e da tutta una serie di atti. Quindi ho tirato un po' giù le somme di quelle che sono state le sedute. Noi abbiamo fatto dall'inizio del mandato, io ti parlo anche addirittura dal, poi faccio un focus sul 2022, ma dall'inizio del mandato abbiamo fatto 21 sedute di Consiglio Comunale, quasi un al mese. 186 sono stati gli atti discussi, di cui 20 interrogazioni, 23 mozioni ed ordini del giorno e un atto speciale che è stato il rinnovo del gemellaggio con ASBAC, che abbiamo fatto con una cerimonia con la delegazione tedesca. Quindi insomma 186 atti è un numero importante, in 21 sedute. Nello specifico nel 2009 di queste 21 sono state 9, gli atti sono stati 66, le interrogazioni 5. Però ecco, è un percorso che prosegue alcuni dei temi di questi atti. Che cosa si è discusso al di là del bilancio e l'urbanistica che prevalentemente prendono il sopravvento sugli altri atti della città? Beh, secondo me e secondo quello che si è discusso nel 2022 è stato l'anno, ad esempio, della ripianificazione, del ridisegno di Campiglione con l'ospedale. Quindi questo è stato un lavoro che chiaramente ha occupato il Consiglio Comunale, anche con le osservazioni, con tutti i passaggi tecnici che non sto a spiegare perché magari sono loiosi per chi ci ascolta. Però sostanzialmente questo lavoro di riorganizzazione, un po' poi è errato dire solo Campiglione perché parliamo di Girola e Campiglione in realtà, perché è una macroarea dove sorgerà il nuovo ospedale, come disse il sindaco all'inizio del mandato, necessitava di un lavoro di ridisegno che tenesse conto di questo imponente servizio che di fatto viene offerto ai cittadini in quel posto e che andrà a sostituire il nostro ospedale Murri. Quindi questo è stato un lavoro bello, lungo e impegnativo che il Consiglio, diciamo, ha vidimato con il suo voto. Un altro passaggio importante dell'anno è stato, ad esempio, la trasformazione della Solgas in S.P.A. in piena crisi energetica e i patti parasociali che garantiscono comunque gli accordi, garantiscono comunque il comune rispetto ai movimenti anche dell'energia elettrica che ci sono stati e soprattutto mettono in campo, perché è un passaggio in S.P.A., cioè mettono in campo una partecipata che in futuro possa essere sul pezzo rispetto anche a tutta una serie di esigenze del mercato. Pensiamo alle rinnovabili, pensiamo all'efficientamento energetico in generale. Per cui penso che, ecco, parliamo, questo mi va di precisare, di misure che sono di lungo periodo. Mentre è chiaro che l'assessore si concentra sulla risoluzione del marciapiede o dello spettacolo, dell'iniziativa turistica o dello sport, è chiaro che il Consiglio lavora su prospettive di lungo periodo. In questo caso ti ho fatto due esempi. Uno è Campiglione, l'altro è il ridisegno urbanistico di un'area a fronte di un ospedale, l'altro è un ridisegno di una partecipata per renderla ancora più competitiva sul mercato e che però sono misure che vanno oltre il quinquennio, sono misure che si lanciano con una prospettiva anche di sostenibilità per la città e sono misure anche di politica. Poi al di là delle piccole cose che sono assolutamente fondamentali e importanti del quotidiano e poi uno, credo, mi viene insegnato anche da politici più avanti di me con esperienza e con età, che poi tutto anche il quotidiano si deve inserire all'interno di una visione. Quindi la visione in questo caso la dà il Consiglio attraverso i suoi voti su atti che risultano essere importanti e determinanti per lo sviluppo della città. Tu da in qualità di Presidente del Consiglio sei di fatto il garante dell'assise, sei garante, devi garantire anche l'equilibrio tra maggioranza e opposizione. Come giudicheresti questa maggioranza e come giudicheresti questa opposizione? Ti piacciono? Sono due componenti del Consiglio ben equilibrate e responsabili oppure sono per alcuni versi criticabili? Ma guarda, io credo che la differenza lo faccia, la fa in quel caso l'approccio con cui prima il singolo consigliere e poi il gruppo a cui il consigliere appartiene ovviamente si relaziona rispetto agli atti che vengono portati. Cioè se c'è la volontà, faccio un esempio concreto, di approfondire, di integrare, di relazionarsi, no? Ad esempio ci sono le commissioni su cui il lavoro di cesellatura, anche di un atto, di confronto, anche di scontro, eh, dico soltanto perché voglio dire, rispetto a degli obiettivi. Insomma, se uno ha da dire, secondo me all'interno del Consiglio ha gli strumenti per poter dire, per poter criticare, per poter proporre, ci sono. Sai, la differenza la fa un po', credo, il grado di, no? La capacità, il grado di farsi interpreti, no? Di questa, di questa volontà. Quindi poi è chiaro che chi ha più esperienza, ci sono consiglieri che hanno fior fior di esperienza, no? Voglio dire, cito uno per la maggioranza che è Barboni, uno per l'opposizione che è Vallasciani, ad esempio, no? Su diverse tematiche. Ma anche i più nuovi, è chiaro che dipende come utilizzi gli strumenti del Consiglio e la grinta che ci metti e la voglia che hai è di interloquire con gli strumenti che il Consiglio ti mette a disposizione. E i nuovi sono volenterosi? Ma i nuovi sono volenterosi? Perché no? Assolutamente sono volenterosi. No, perché spesso e volentieri capita pure, no? Che il nuovo venga, non per i suoi demeriti, ma venga oscurato dal senior di turno, dal senatore, no? In termini di esperienza consigliare. Ci può stare e ci può stare soprattutto perché come tutte le cose nuove, se un consigliere arriva, e tra l'altro il ruolo del consigliere non è il ruolo dell'assessore, quindi non è veramente alle prese con la risoluzione pratica, no? Il consigliere propone, segue, guida, no? Va in ufficio, si informa perché magari il cittadino gli ha fatto una segnalazione, poi parliamo di atti scritti, quindi magari propone emendamenti, no? Cioè bisogna entrare, prima cosa bisogna entrare in questo meccanismo, quindi devi piano piano entrare e non sempre gratificante, Giorgio. Cioè all'inizio tantissimi consiglieri o anche chi finisce un'esperienza e devo dirti, non è che sono di fermo, ho avuto modalità di conoscere tanti consiglieri comunali anche in altri comuni, in altre realtà, c'è chi magari ne esce anche un po' deluso da questa esperienza, no? Perché mi dice, vabbè, ma sto lì, alzo la mano, provo il bilancio. Esatto, famoso yes man. Non posso incidere, ci può stare, ci può stare, tutto sta, che ti devo dire, nell'entrare nelle questioni, magari in quelle che ti sono più a cuore, magari su alcune cose di urbanistica sei più ferrato perché per la professione le segui, su altre, su delle emozioni magari più ideali, ti interessi perché fa parte del tuo background. Dipende, ognuno sceglie quello che gli fa più piacere e cerca di portarlo avanti e di essere parte attiva. Comunque concludo dicendoti che diversi consiglieri hanno avuto anche dei ruoli comunque di arricchimento, no? Penso, adesso mi viene in mente ad esempio su Campiglione perché ho interlocuito anche direttamente insomma sia Sara Pistolesi che ha un gruppo di Piazza Pulita che ha comunque avuto un ruolo importante in termini della di Campiglione, insomma della ricampiglione Nicola Pascucci che la relega sulle aree dismesse e quindi sul Pinqua e sulla conceria ha insomma da appassionato qual è ha dato una mano anche all'assessore Luciani e di Felice adesso ne ho citati due per citarmi due Paola Gaggia anche su Campiglione di non mi fermo molto attivo ho citato dei, diciamo dei membri di maggioranza ma allo stesso modo potrei dire di tanti interessamenti che mi sono arrivati dall'opposizione con Giacobbi siamo insieme nell'associazione UNESCO Fellernin City quindi c'è modo per chi ha voglia e volontà di impegnarsi anche in un contesto se vuoi più meno pratico e concreto come può essere quello del Consiglio Comunale rispetto all'attività di giunta c'è chi sostiene che quella la figura del ruolo del Presidente del Consiglio sia una condizione sine qua non per poi proseguire crescere a livello politico e amministrativo tu sei stato assessore sei stato vice sindaco sei Presidente del Consiglio prima domanda è quale di questi ruoli ti è piaciuto di più ognuno ha avuto la sua come ti rispondo ognuno ha avuto ma poi sei diventato anche diplomatico corpo diplomatico sei anche consigliere d'ambasciato guarda allora io sono una persona molto molto concreta molto pratica ideale mi reputo con molta humiltà ideale quanto basta e pratico quanto basta senza inarivirsi nell'uno e allontanarsi dalla terra nell'altro quindi cerco di tenere i due binari sicuramente il lato pratico dell'assessorato dell'allice sindacatura è un elemento di concretezza che si ritrova nel mio essere però ti devo dire che ha anche un ruolo insomma un po' super partes come quello del Presidente del Consiglio Comunale che comunque deve tenere in considerazione le varie esigenze è un ruolo che sto scoprendo nella sua anche bellezza proprio per dare valore all'istituzione del Consiglio che raccontavo oggi ai giornalisti nella conferenza stampa prima di questa intervista tante volte mi è capitato anche di incontrare i cittadini che magari conoscessero il sindaco l'assessore ma il Consiglio Comunale non sapessero cosa fosse ok quindi spieghi che cos'è e racconti come funziona l'istituzione l'istituzione e questo anche con le giovani generazioni devo dire che è molto bello adesso la prossima settimana abbiamo incontri consueti con le consulte come ogni anno mi dispiacerebbe quest'anno inserire anche un concetto di visite nella sana consigliare spiegando ai ragazzi come funziona cioè questo al di là delle finalità con cui il che loro sai fanno il Consiglio Comunale dei ragazzi trovano le conclusioni poi queste conclusioni vengono consegnate dell'amministrazione ecco mi piacerebbe al di là di questo che è una cosa che si fa ogni anno organizzare proprio delle visite guidate nella sala consigliare farli sedere e raccontarvi come funziona questa è una cosa che secondo me lì immersiva è proprio la maniera più pratica concreta e vicina per fare educazione civica tra le altre cose perché poi non diciamo sempre l'impegno parte dalla propria comunità quindi è il primo fronte con cui uno si può confrontare rispetto a quelle che sono le problematiche a quello che è sentire quello che è anche la volontà di dare una mano l'assessore più concreto una figura che si presta maggiormente al suo modo di essere ma anche la scoperta di un consiglio comunale in qualità di presidente quindi sostanzialmente un'istituzione super part per essere spingolata da tutte e da tutti questo calato nella città di fermo con un sindaco come Paolo Calcinaro i più critici nei suoi confronti dicono che è un un accentratore hai pagato in una di queste due vesti il suo essere accentratore se per te lo è e in che termini no né da assessore né da presidente del consiglio no da presidente del consiglio viva Dio insomma no perché insomma lì sarebbe un'ingerenza no no imparazzante però da assessore ci può stare insomma sei pur sempre un delegato del sindaco quindi no sia perché come ti ho ribadito l'ultima volta che ci siamo visti per le nostre interviste finestra legate al consiglio comunale il nostro rapporto è molto franco quindi da questo punto di vista non non è non è che mi tiro indietro se gli devo dire qualcosa e lui non si tira indietro se gli devo dire qualcosa quindi c'è un rapporto molto ma poi chi lo spunta è molto corretto ma guarda allora per risponderti vengo alla seconda la seconda parte sulle mie materie devo dirti lui mi ha sempre riconosciuto una competenza io ho sentito sempre insomma una stima e una competenza pertanto avvertendo insomma da parte sua la fiducia devo dirti che per quanto riguarda il nostro lavoro io per quando sono stato assessore e vice sindaco anche nel caso specifico sotto di lui quando dicevo la mia era una mia ascoltata e credo insomma che lui possa confermare in diversi casi ho fatto quello che ritenevo più opportuno perché però anche mi metto anche nei suoi panni perché comunque io credo di aver portato comunque dei risultati cinque anni del mio mandato precedente quindi credo che fosse stato rassicurato anche dal fatto che il piatto andava in una certa maniera l'estate andava in una certa maniera il Natale andava in una certa maniera insomma tutti la gestione dei beni culturali la gestione dei musei quindi voglio dire probabilmente si sarà si sarà e presumo insomma si sia convinto che la sua fiducia era ben riposta e quindi mi lasciava agire come meglio ritenevo opportuno io poi sono un po' così quindi lo dico anche per me cioè io sono una persona che quando lavora bisogno di solito si prende le responsabilità non ho paura di avere le mie responsabilità però devo essere lasciato un po' libero di gestire le cose come meglio ritengo però c'è tu mi dai un obiettivo io ti raggiungo quell'obiettivo ma come come lo raggiungo devo gestirmelo io questo te lo dico perché anche nel lavoro in generale anche nella mia attività lavorativa al di là di quella politica sono una persona che ama gestirsi ama lavorare per obiettivi e poi trovare io stesso la modalità di raggiungerli quindi devo essere autonomo lui ha sempre capito rispettato e credo apprezzato questo mio modo di lavorare quindi dal punto di vista dell'assessorato non ci sono mai stati problemi della presidenza del consiglio ha detto tu prima sono due organismi che collaborano in maniera proficua nella loro indipendenza quindi non si vuole il problema tu pensi che il fatto di consultarsi con te confrontarsi con te da parte del sindaco fosse legato solo alla carica assessorile o pensi che ci fosse ci sia una stima reciproca ma che è una seduta psicoterapeutica sui rapporti tra me e il sindaco no no perché poi arriviamo io voglio capire in che termini vi confrontavate sindaco assessore oppure Francesco Paolo ecco ma guarda io non ho mai scisso nel senso che anche questa all'epoca perché adesso per forza di cose in questo secondo mandato l'assetto è completamente diverso quindi voglio dire sia per nuovi innesti sia perché ho un ruolo appunto meno esecutivo quindi c'è proprio una conformazione diversa però se tu fai riferimento alla alla vecchia al vecchio mandato non ho mai scisso perché l'avventura è venuta insieme sulla base di un rapporto umano e sulla base anche di comunque un'esperienza politica e quindi ci siamo sempre confrontati sul lato politico ma anche sul lato amicale rispetto alle questioni che di volta in volta ci trovavamo a gestire ecco adesso capirai dalla prossima domanda perché non è una seduta psicoanalitica perché volevo arrivare a questo nel senso affermo tiene banco un argomento delicato per alcuni versi una traviata ormai diventata quasi della discordia e perché perché c'è questa traviata che oggi sarebbe andata in scena per i ragazzi per gli studenti delle scuole medie e superiori andata in scena a Fano e invece i sindaci di Fermo Paolo Garcinaro e di Ascoli hanno detto no a questa prima per riservata ai ragazzi perché la violetta della traviata è in versione transgender sostanzialmente quindi ecco la prima domanda è se proprio in virtù del vostro rapporto amicale di confronto di crescita mutua il sindaco questa volta ti ha chiesto o no un parere il sindaco ha deciso non te la chiedo prima te lo chiedeva poi la ok il sindaco ha deciso e che ti devo dire Giorgio io sono stato ovviamente come puoi immaginare subissato di telefonate di messaggi in generale da parte di tante persone anche che mi chiedevano spiegazioni su questa cosa perché secondo te te lo chiedevano? beh voglio dire perché conoscendo la mia sensibilità sul tema conoscendo la mia il fatto che io sia un teatrante che non è secondario il fatto che io abbia comunque sia stata la mano politica che insieme a Guido Castelli all'epoca a Romano Carancini a Massimo Seri perché di fatto in questo senso mi muovevo io decise di dare vita alla rete lirica e sul fatto che io sia consigliere della rete lirica in questo momento su su decreto del sindaco ok quindi rappresento lì dentro l'amministrazione di fermo quindi per tutta questa serie di motivi mi arrivano i messaggi mi chiedono che cosa pensi ecco cosa penso la mia storia parla per me di teatrante di persona sensibile attenta a determinate tematiche personalmente parto da 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 un ragionamento è vero che c'è stato come ha detto giustamente il sindaco un ritardo di comunicazione interno alla rete lirica questo è vero perché noi abbiamo allora faccio un passo indietro noi abbiamo noi diamo gli indirizzi come direttivo ok quindi dai un indirizzo e abbiamo deciso di associarci a un bando internazionale assieme al circuito di rilco lombardo comunque abbiamo collaborato un miliardo di volte a questo bando partecipano oltre 60 registi però oggettivamente il diciamo il contenuto quindi la dimensione contemporanea e il fatto che insomma Violetta non fosse una prostituta ma fosse una persona che stesse in un percorso di transizione perché questo è un transgender noi l'abbiamo saputo dalle recensioni poi dei giornali che ci sono state quindi c'è stato sicuramente un difetto di comunicazione detto questo no mi sembra un po' no no aspetta ma non finire detto questo questa non è una giustificazione è un raccontare i fatti ok quindi a questo punto ci sono state comunque Fano ha scelto una strada e Femmasco ha scelto un'altra voglio dire c'è stato un rammarico che mi è stato manifestato corretto oggettivamente da parte anche dell'assessore Lanzidei sul fatto che se ci fosse stato tempo ma questo penso che sia proprio un discorso anche di correttezza nei confronti del pubblico cioè tu hai modo quando vedi gli abbonamenti hai modo di dire all'abbonato guarda l'allestimento è più contemporaneo è più classico quindi allo stesso modo sulle scuole tu sai che ci sono delle anteprive puoi informare per tempo o eventualmente per disporre dei percorsi per tempo quindi su questo come dire uno ha più modo di agire da questo punto di vista quindi posso capire che questa cosa abbia un po' insomma disturbato nel termine di accompagnare il pubblico presunto alla sprovvista insomma sì però ripeto ascoltami nel termine di accompagnare l'uditorio e il pubblico a una visione ok in questo senso perché poi tu sai che nelle anteprime dei giovani si fanno anche dei percorsi nelle scuole l'opera viene spiegata viene raccontata vengono accompagnati ragazzi all'opera questo è il senso detto questo torno a ribadire alla fine c'è stata una scelta in una direzione a parità di condizioni hanno fatto una scelta e per mascoli hanno fatto un'altra su questo non è che si può disquisire più di tanto se tu mi chiedi quello che pensi io penso io avrei seguito la strada di Pano su questo non c'è proprio alcun dubbio credo e in questo come dire mi fido fioravanti come dire e fratelli d'Italia sono un discorso a parte io vorrei anche fare questa differenziazione perché sappiamo che lì proprio non c'è possibilità di dialogo su questi temi tra l'altro in realtà da quello che è emerso insomma per quello che riguarda Fermo Ascoli parlerà per sé però per quello che riguarda noi da quello che ho percepito insomma dal racconto sia del sindaco che dell'assessore non c'era una difficoltà sul tema c'era una difficoltà su delle scene su un paio di scene che a loro dire potevano risultare la scena delle virazioni una scena di Sadomaso così viene definita insomma parliamo di due minuti su due ore di opera e quindi che a loro dire poteva essere impegnativa per un uditorio dei ragazzi ma loro chi? secondo loro parla il sindaco è l'assessore un riferimento all'amministrazione comunale anche l'assessore era quindi sulla linea del sindaco voglio dire è stata un ragionamento che presumo abbiano svolto insieme per cui parliamo di scene non parliamo del tema perché questo è una cosa che è stata fatta presente detto questo io non cambio idea personalmente io credo che il pubblico sia lo dicevamo prima quando sono arrivato insomma il pubblico sia sovrano e insomma debba in qualche modo poter poter scegliere poter scegliere e anche in questo caso secondo me la cosa che poteva essere fatta anche perché ripeto se Fano anche non avesse aderito allora a questo punto tu hai un comune dove è stato fatto è stato fatto è stato fatto mi risulta anche con una tranquillità generale quindi con i ragazzi che hanno assistito con i docenti che li hanno accompagnati con consapevolezza quindi forse probabilmente la strada da percorrere era quella semplicemente Giorgio di dire guardate non abbiamo saputo più tardi di quello che si poteva fare la situazione è questa l'allestimento è molto contemporaneo presenta delle scene che possono urtare delle sensibilità il tema è questo scegliete in libertà quello che ritenete questo rivolto alle scuole rivolto alle famiglie certamente però si è scelta un'altra linea ovviamente io come referente dell'amministrazione qui faccio un discorso come dire di parere personale da teatrante da persona sensibile a queste tematiche da persona che è stata assessora della cultura che ha gestito anche la lirica per un certo periodo e che continua a farlo nelle vesti di consigliere come consigliere chiaramente come dire la linea dell'amministrazione è questa e quindi questa è questa è un riportato te lo aspettavi? ma guarda perché se fossi stato presidente del consiglio di un'amministrazione come quella di Fioravanti come dicevi non c'era nemmeno partita o discussione no c'è a monte non sarei stato presidente del consiglio di un'amministrazione con Marco Fioravanti che tra l'altro è una persona squisita come siamo in splendidi rapporti e che ci incontriamo sempre ogni tanto tra i corridoi quindi veramente no lì non saresti stato presidente non sarei stato però certo insomma no amministrativa non è che io adesso voglio dire per carità è diventato siamo in un mondo in cui tutto è il contrario di tutto però io sono molto cioè voglio dire ci conosciamo anche no non è che devo millantare o nascondere le mie idee le sanno tutti il mio mondo lo conosce tutti lo conoscono tutti tutti sanno dove mi colloco quello che penso sanno anche che sono una persona aperta e che tende la mano che cerca sempre il confronto è di trovare una soluzione quindi questo è il mio approccio non devo non devo né giustificare né dire né fare perché mi conoscete tutti e tutti sapete come la penso su tutte le questioni quindi non sarei con tutta l'amicizia per Marco Fioravanti sincera non sarei mai presidente di consiglio comunale di un amministrazione di un fioravanti in questo caso ti è dispreciuto in questo caso penso che si sarebbe potuto evitare questo inciampo per me per me è un inciampo però fammi finire però credo anche nella buona fede cioè che sia un inciampo dovuto alla buona fede cioè io ho voluto differenziare anche e lo ribadisco magari una linea che può venire da quello di fratelli d'Italia o comunque da un mondo più connotato politicamente rispetto al nostro no? la stessa reggevo che c'è stata l'interrogazione parlamentare su Sanremo cioè siamo sui cantanti di Sanremo con gli smart cioè siamo a questi livelli non commento perché dovremmo fare un'ora di trasmissione c'è un'interrogazione parlamentare anche sulla traviata sì sì per l'amore di Dio e ognuno fa quello che ritiene giustamente se serve come dire ad accendere i riflettori dicevo però che credo è una buona fede e quindi faccio questa differenza perché non è che io non conosca la sensibilità comunque del sindaco e dell'assessore quindi credo che sia stato un tentativo a mio avviso goffo di in qualche modo tutelare gli spettatori più giovani ecco questa magari era una cosa che forse non come dire era bene lasciare perché gli stessi spettatori sanno quello che magari è più confacente a loro però io avverto assolutamente della buona fede e di un ragionamento che è stato fatto in assoluta buona fede tra l'altro da parte di un'amministrazione Giorgio perché non è che si nasce adesso un'amministrazione che su questi temi comunque ha dimostrato sempre una capacità di di ragionamento cioè comunque una mozione sul DDL ZAN l'abbiamo fatta comunque due mozioni sulla 194 e sull'R486 le abbiamo fatte comunque sulle unioni civili mi vicesindaco si è sposato a fermo quindi su queste tematiche non c'è stato mai una preclusione né una chiusura e comunque è un'amministrazione che ha costituito la commissione pari opportunità in questa città quindi su queste tematiche non è che parli un'amministrazione ottusa quindi immagino che questo sia stato un tentativo goffo un tentativo goffo in buona fede di tutelare dei giovani spettatori su delle scene non sul tema che insomma il sindaco si è espresso su delle scene che in qualche modo poteva notare della sensibilità e quindi prendo atto della buona fede cosa devo dire al di là di esprimere liberamente il mio pensiero e dirti che per quanto mi riguarda non avrei seguito la linea infano però penso che mi sia consentito esprimere un'opinione personale e nello stesso tempo però come dire credere assolutamente nella buona fede dell'amministrazione e soprattutto immaginare che da magari questa situazione un po' diciamo ingarbuglia un po' torcigliata su se stessa possa invece nascere perché no un percorso di lavoro sul tema perché magari un incidente di percorso una gaff o una una cosa fatta a fin di bene magari mal riuscita o mal capita mettiamola così anche mal capita perché magari appunto uno si è mosso dai i sentimenti poi nella politica non sempre si riesce a dire ho sbagliato tra l'altro quindi magari mal capita possa diventare invece un motivo per magari avviare un percorso di spettacoli sulla no sull'emarginazione oppure sui diritti no e secondo me l'assessore Alansidei potrà potrebbe sono sicuro insomma che potrà lavorare d'accordo col sindaco no su delle delle cose che probabilmente magari se non ci fosse stato questo questo incipit non non sarebbe venuta l'idea ecco voglio voglio girarle in positivo sì ho capito il tuo tentativo goffo di di salvare caprecavoli però tu comunque no io non voglio polemizzare io mi rifaccio insomma anche a delle dichiarazioni piuttosto pesanti sia del centro-sinistra sia ad esempio di due circoli arcighei quello di Ancona e quello di Pesaro che hanno insomma parlato di nel complesso queste diciamo sigle chiamiamole così perché parlo mi riferisco anche ai partiti hanno parlato di censura hanno parlato di una democrazia minata quando un sindaco così si insomma decide per il popolo no ti senti di condividere questa lettura ti senti di sottoscrivere la critica di censura allora lo spettacolo si fa sabato fai scena ed è tutto esaurito quindi voglio dire uno spettacolo per i ragazzi non si è fatto però appunto se fosse censurato non si sarebbe fatto vabbè diciamo una censura under under 14 under 16 Giorgio che cosa vuoi che ti dica più di quello che ti ho detto io più che esprimere una mia posizione insomma piuttosto amareggiata per quanto successo non credo di poter dire di più io tutti hanno hanno diritto di dire la loro e ho letto le prese di posizione dell'Archigay ripeto insomma secondo me bisognerebbe anche considerare no io ho fatto anche un percorso storico rispetto a alla sensibilità di questa amministrazione quindi da questo punto di vista insomma i paroloni di Apocalisse non li amo da destra quando parlano dei diritti e non li amo da sinistra quando gridano alla fine del mondo quindi voglio dire piedi per terra idealità ma concretezza quindi ok è un ciampo a mio avviso l'ho ribadito l'ho detto però secondo me c'è modo e maniera di poter recuperare eventualmente quello che è stato avvertito come uno sgarbo che cosa posso dire questo quello che posso dire da esponente da persona sensibile da persona che è stata sempre in prima linea da persona che voglio dire ha fatto di questo anche un motivo di sincerità di vita altro non mi sento di poter dire se non di registrare quello che ti ho detto in termini di franchezza con gli amministratori di cui sono espressione e aspetto e credo e spero che su questo l'assessorato del pari opportunità possa colmare questo gap con una serie di misure culturali questo che era poi la finalità il senso anche no di quest'opera certo quindi dopodiché c'è il solito teatrino politico questo c'è è doveroso io più che esprimere come la penso dirlo pubblicamente ecco lo dico quindi anche in maniera molto tranquilla e lineare come sono abituato a fare nel rispetto di tutti perché voglio dire nel rispetto di tutti non credo di poter aggiungere altro parli di teatrino politico il tuo nome è rimbalzato anche negli ultimi mesi a un urtel vero adesso un po' si è affivolito so che parla solamente mi fa anche piacere questa cosa come vedi la politica partendo proprio dalla tua area di appartenenza diciamo così o di provenienza scegli te di centro-sinistra è una un po' in confusione osservo spaisato quello che avviene guarda non trovo le parole cioè ma devo dire non solo io sono voglio dire tante le persone con cui interloquisco ma in maniera serena nelle chiacchierate nelle amicizie come capita a tutti noi a cena e dal punto di vista di elettori di centro-sinistra vedo tanto smarrimento tanto abbattimento tanto scoraggiamento è proprio questo devo dire quello che si sente che si avverte d'altra parte i PD sono tutti in attesa di questo congresso e staremo a vedere la mia paura se è su questo che vuoi sapere ti anticipo eventualmente la prossima domanda che avevi in animo di fare sulla cioè ho il timore che cambino le facce ma non cambino i metodi e questo è un timore che non c'ho solo io che trovo condiviso da tante persone con cui ho parlato cioè la mia paura è che poi dietro si sia risistemato un assetto che sia Schlein che sia Bonaccini che sia De Micheli che sia Cuperlo un assetto che si muove sempre con le stesse logiche sempre con le stesse persone sempre con le stesse modalità è quel magma che è preoccupante e pericoloso per diciamo per un partito che si slanci bene gli anni a venire come il partito di centrosinistra moderno che sape intercettare al di là delle ZTL per intenderci quindi che ti devo dire io sono sempre andato a votare le primarie io non ho mai notorio non ho mai avuto la testa del PD sono sempre andato a votare le primarie come sono sempre andato a votare il referendum come sono sempre andato a votare ogni volta che mi è stata data occasione di dire la mia quindi questa è proprio una mia conformazione Francesco Trasatti e non so se stavolta ci vado sai so tanto 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 nel senso che tra l'altro se a destra facessero le primarie se a destra facessero le referenze eccetera io credo che anche adesso magari come dire non ci andrei io ma sarebbe bello comunque nel senso che dai lettori di destra lo apprezzerei ecco per ragionare anche sul perché Francesco Trasatti va a votare perché lo ritiene ti piace come strumento perché nel senso laddove hai la possibilità di esprimere una tua opinione io la mia opinione la esprimo questo è il ragionamento poi che poi non sia seguita come nel caso dei referendum spesso e volentieri è un altro discorso però se ti viene data l'occasione perché no quindi però questa volta sono veramente in grossa difficoltà e non so non so perché non mi convincono al di là del magari una simpatia eccetera non mi convincono perché non ho il timore che dietro si cegno i soliti meccanismi quindi a volte a questo non vedo non vedo prospettive per cui siamo tutti un po' alla finestra a vedere a capire quello che emergerà anche perché credo che comunque in ogni caso adesso c'è la Meloni governo la Meloni c'è la polizia in centro-destra è giusto che sia così che dimostri quello che sa fare adesso probabilmente sicuro vince in Lombardia in Lazio quindi anche lì tanto io faccio le premonizioni qui con te e poi si avverano esprime pignotti eccetera quindi la segna però ci deve essere sempre questo voglio dire a bici della politica un qualsiasi manuale di scienza politica l'opposizione ci deve stare se non c'è se non c'è un'alternativa che sia la Meloni ha dimostrato che credendo in un'alternativa lavorando in maniera seria eccetera eccetera ha portato un partito dal 2 al 30 ok quindi ha dimostrato che il senso dell'opposizione cioè di proporre un'alternativa chiara e seria è fondamentale per la democrazia allo stesso modo mi auguro che il PD che il centrosinistra lo faccia perché la mia preoccupazione che in questo marasma con un governo che comunque ha una sua maggioranza anche se traballante ogni tanto lei leggo i giornali però insomma ha una sua maggioranza ha una sua solidità ha una sua presidente del consiglio fa la sua strada la mia preoccupazione è che arrovellati dietro ai congressi alle spaccature alle corrente e no ma io ti parlo anche di area quindi ai vecini incrociati quindi ponte contro Renzi calenda contro Letta eccetera in quella in quella logica non si crei niente e in quel deserto arido poi trovi una democrazia sbilanciata e questo mi preoccupa tu dicevi ecco una democrazia sbilanciata ti preoccupa in tanti elettori del PD del centrosinistra c'è smarrimento questo a mio avviso può provocare due reazioni in un politico o quello di trovarvi la spinta propulsiva a fare qualcosa di più incisivo quindi candidarsi per metterci la faccia oppure tirare i remi in barca come si suol dire e soprattutto se come te c'è in ballo un mondo di interessi di attività lavorative che ti portano anche fuori sappiamo no quale di queste due cioè questo questa confusione no questo smarrimento nel centrosinistra ti sta spingendo all'addio alla politica nel concreto la politica vissuta nella politica fatta oppure stai vivendo la reazione opposta quella di decidere di impegnarti ancora di più ancora in maniera ancora più decisiva forse per alcuni versi per il Francesco Trasà cosa conviene che io dica per coloro che aspettano questa risposta perché a chi do fastidio probabilmente sarebbero gratificati dal sentir rispondere mi dedico alla mia attività chi invece magari astima di me e magari vorrebbe che io avessi ancora un contributo gravirebbe sentire no continuo quindi è una domanda che guarda io sto portando avanti interessi della mia vita il lavoro perché tra l'altro credo sia fondamentale importante non distaccarsi mai dalle proprie attività beh tu non l'hai mai fatto non l'ho mai fatto assolutamente è un po' allentato è normale sono stati comunque tre anni dalla Brambatti e quasi sei di Carcinato perché noi con la pandemia abbiamo preso pure fin siamo arrivati a settembre no? 5 e mezzo insomma sono stati otto anni totalizzanti quindi ho completamente abbandonato tutto il mio lavoro teatrale eccetera però devo dirti che ho ripreso in mano insomma il teatro come è notorio come si sa quindi con grandissima soddisfazione e mi si stanno come dire riapparecchiando tutta una serie di cose nel frattempo mi sono anche abilitato il noto consulente del lavoro quindi ho fatto anche questo percorso e perché per come sono fatto io innanzitutto non volevo che la politica mi mangiasse tutta un'altra parte di vita che comunque ritengo arricchente per me e per la stessa politica perché quando la fai la politica tu porti te stesso porti te stesso quindi arricchendosi da questa parte porti di più e quindi era una cosa che volevo che volevo fare e poi un altro ragionamento è che non voglio minimamente ed è la mia paura essere schiavo del non sapere cosa fare se uno non fa politica ecco questo proprio non è non è il mio non è il mio mood quindi avevo esigenza di recuperare è chiaro che un impegno nel caso specifico il precedente il vice sindaco in un comune di 40.000 abitanti il 37 perché adesso siamo scesi con un crollo demografico come tutti i comuni d'Italia però per me è stato impegnativissimo è stato totalizzante è stato quotidiano con un terremoto di mezzo una pandemia con tutto quello che sappiamo come il sindaco d'altra parte siamo stati sempre a tempo pieno e per chi fa il mio lavoro cioè non è che tu ti puoi andare in tournée oppure fare un progetto teatrale oppure fare dei progetti culturali se poi devi stare alle nove in comune perché devi ricevere i cittadini o l'uno o l'altro però però ti devo dire che ho recuperato ho recuperato questo spazio con un grande piacere con un grande interesse e me lo porto avanti assolutamente proprio perché non voglio essere e vengo voglio essere libero di scegliere quello che ti pare per rispondere alla tua domanda iniziale bene quindi se qualcuno ti dovesse proporre o chiedere una candidatura a sindaco una candidatura non per svilirla è in una lista ovviamente nella tua area di appartenenza che è centro-sinistra dubito che me lo chiederà qualcuno se dovesse arrivare si valuta che ti devo dire cioè voglio dire non è un prendere o lasciare è una serie di condizioni che maturano che esistono che ci saranno in quel momento in quel dato momento è chiaro che l'ho detto anche nella scorsa intervista sono otto anni di amministrazione in prima linea adesso due tra poco tre da presidente del consiglio comunale interesse per la politica c'è credo di avere delle insomma una una conoscenza quantomeno perlomeno dei miei settori insomma dove poter dare un contributo però non ho non sono schiavo di nessuno men che meno di me stesso e di belleità nulla quindi sono una persona libera e credo che questa sia la maggiore garanzia anche in funzione di quelle scelte che un domani qualcuno se qualcuno mi chiederà se qualcuno mi chiederà di fare la miglior garanzia sarà la mia la mia libertà di poter scegliere sì o no a seconda dell'assetto e delle condizioni che ci saranno e quindi sto coltivando la libertà che credo che sia la cosa fondamentale grazie grazie Francesco Trasatti presidente del consiglio comunale di Fermo io ringrazio ovviamente i nostri ascoltatori ringrazio anche Alessandro Luzzi e Simone Corazza che ci hanno seguito dalla regia e do tutti quanti appuntamento giovedì prossimo con una nuova puntata di Zoom il programma di approfondimento di Radio FMU Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti